Musica 30, è pole position, pole position, pole position per Charles Leclerc è pole position, pole position per Charles Leclerc Let's go baby, let's go, come on Musica Sul straguardo Leclerc, 16, 17, pole position, pole position, pole position, super pole position per Charles Leclerc Leclerc, incredibile, incredibile, che cosa ha fatto Charles, 1,17, 868 P1 Let's go Oh, nice stop Nice stop Musica Il tempo da battere, 128, 991 di Max Verstappen Arriva Charles Leclerc e la pole, pole position, arriva Carlos Sainz 128, 796, il tempo da battere al secondo, 1,2, 1,2 P1, P1 Let's go, come on Good, the level's are great, but it's enough, so, can't complain E' the handle power 1,19, 0,73, T-Rex overstappen 1,19, 0,73 per Leclerc E' pole, pole position, pole position per Charles Leclerc Come on Wow, the luck was good The luck was good The luck was good Per Leclerc, questo è adesso Diventa il tempo da battere Sainz Clamoroso, clamoroso Clamoroso, è finita, qui dicono E pole, la Ferrari Conquista tutta la prima fila Nel Principato di Monaco In 4-1, allora va a prendere Charles Leclerc Aspettiamo il suo settore centrale Metto il secondo, vola Charles Vola Charles Sainz è primo, è pole Leclerc è secondo E sta andando all'attacco Della pole position Charles Leclerc eccolo qua Berets vola nel primo settore Berets 35-6 come Leclerc nel primo settore 1,41, 814 Il tempo da battere di Carlos Sainz Arriva Leclerc sul traguardo E pole position E il video Vola Elezione Vola 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 1, 30, 872, un boato, 1, 30, è il tempo da battere, 872 per Verstappen, 28, 29, 30, 31, 3 decimi, pole position, ed è pole position! Ma aspettiamo soprattutto Leclerc che va in pole, pole position, pole position per Charles Leclerc, ma arriva Max Verstappen, arriva Max Verstappen sul traguardo 1, 20, 161, il tempo di Leclerc è il secondo, ed è pole position, è pole position, è pole position per Charles Leclerc, anche in pista, senza penalizzazioni, Charles Leclerc va in pole, e questa è la festa, la soddisfazione degli uomini in rosso, a casa nostra, a casa nostra, Charles Leclerc dopo 3 anni ritorna a partire davanti a tutti! So B1 Come on! Yes! Che bello! Adesso ragazzi, domani, domani, dai, grandi, grazie! Do you still want me? Alonso! Non sta appena anche Alonso! Alonso! Alonso è in pole position, arriva Charles Leclerc, deve fare battere, quello di Alonso lo fa! Charles Leclerc in pole, è pole position per Leclerc! Do you still want me?